Le città abruzzesi di Pescasseroli, Abezzano e Sulmona hanno ottenuto dal CEPAL del Centro per il Libro e la Lettura e dall'ANGI, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, la qualifica di città che legge per il biennio 2022-2023. Per Pescasseroli e Abezzano si tratta di una riconferma di una qualifica già esistente. Per Sulmona è la prima volta. Per sapere di più abbiamo ascoltato Rosanna Tuteri, Assessore Comunale alla Cultura, Sulmona, Michele Lacesa, responsabile del progetto di Pescasseroli. Che è stato un progetto corale, cioè non è stato una singola persona, una singola associazione a pensare di far riconoscere Sulmona come città che legge. Ma sono più di 20 associazioni che si sono messe insieme, hanno firmato. È una cosa importante che si riconosca ad una città quello che veramente fa Sulmona, una città che legge e che scrive. Pescasserolesi leggono? Leggono, leggono e qualcuno sta cominciando pure a scrivere. Leggono perché abbiamo più manifestazioni durante l'anno a cui siamo aggiunti noi come Pescasseroli città che legge, il premio Croce, cioè Pescasseroli legge tutto quasi ingentrato sull'estate. Pescasseroli città che legge vorrebbe andare verso l'inverno, verso quella parte dell'anno che è dei pescasserolesi. Pescasseroli ha tre biblioteche, la biblioteca comunale, la biblioteca del parco per nostra fortuna e la biblioteca scolastica, messe in rete e messe in comunicazione fra di loro. Questo ci ha portato a fare la prima domanda di Pescasseroli città che legge e a confermarla quest'anno. I Sulmonesi dove leggono? La biblioteca è chiusa? Sì, la biblioteca è temporaneamente chiusa, nel senso che adesso finalmente sappiamo che riaprirà di certo. Insieme ai lavori per la ristrutturazione dei locali, degli spazi destinati al liceo video, ci sono anche lavori per la biblioteca che è stata colpita dal terremoto allo stesso modo. E tra l'altro stiamo lavorando perché vengano restaurati i libri antichi della biblioteca, per cui quando si riaprirà sarà una biblioteca rinnovata, fruibilissima, anche meglio di prima. E ci stiamo lavorando. Poi dico temporaneamente perché ad esempio anche alla biblioteca regionale, gli orari sono stati ampliati notevolmente per la presenza di una persona, due persone mi sembra, proprio del comune, messe a disposizione dall'amministrazione comunale. Quindi anche in quello spazio. Ma poi non dimentichiamo che c'è la biblioteca diocesana, poi c'è Santa Chiara e poi ci sono anche altri spazi che si stanno formando come la biblioteca ovidiana al futuro museo ovidio. Grazie a tutti.